esternare i propri sentimenti o le proprie passioni non è mai una cosa negativa ma quando questo viene fatto a discapito di monumenti storici o manufatti di oltre 2000 anni fa beh questa diventa un'altra cosa è scempio e danno alla collettività nei giorni scorsi la mano di ignoti è stata armata da pulsioni grafiche a discapito delle mura augustee che ricordiamo essere tra le primi in italia per superficie esposta e che sono patrimonio pubblico con il deprecabile risultato che ora chi vuole visitarle sa i gusti canori amorosi dello scellerato imbrattatore assolutamente qui siamo di fronte alle mura romani di più di 2000 anni fa un patrimonio storico da preservare e da non fare cioè proprio sono cose antitetiche vedere delle scritte modernissime con delle mura che risalgono al 27 28 avanti cristo nonostante diciamo siano state più volte risistemate è un disdicevole è un patrimonio da preservare perché comunque come dicevo le ragazze o chiunque vengano qua possono toccare con mano quella che è stata una civiltà grande civiltà grande periodo imperiale quindi soprattutto la fondazione della città qui è imperiale nella nostra nella nostra zona però ecco sicuramente possono toccare con mano questo grande questo grande patrimonio un intervento di ripristino ora si rende necessario ma questo a lungo andare può danneggiare il monumento sarebbe meglio prevenire queste cose perché comunque la pulizia anche se è rispettosa è reiterata tutti gli anni diciamo che alla lunga va a danneggiare il monumento noi comunque dal 2007 che più o meno ogni tanto ripuliamo queste mura il problema è che siccome sono cose comunque protette anche dalla soprintendenza ci vuole sempre il benestare della soprintendenza quindi il comune deve fare richiesta comunicare i lavori di pulizia e quindi incaricare la ditta per cui noi come associazione anche o come ditta perché siamo sia l'uno che l'altro possiamo intervenire solo dietro un incarico ufficiale con tutti i permessi del caso interventi che grazie all'associazione che opera sotto forma di baratto amministrativo hanno costi limitati ma la musica cambia se ci si rivolge altrove non è che costi così tanto la società però normalmente chiamando ditte insomma preposte al restauro io penso che si va sui 10 mila euro come cifra con fano abbiamo tentato di aderire al nuovo regolamento dei beni pubblici beni comuni che è stato approvato l'anno scorso su sulla legge del dello sblocchitalia e ancora però siamo dietro a queste cose perché comunque abbiamo prodotto la documentazione siamo in attesa di risposta con un tipo di rapporto così diretto con il comune il comune ci dà una sede noi in cambio facciamo delle prestazioni sicuramente come ci avvisano nel giro di due o tre giorni si può procedere con la pulitura questi reperti storici sono giunti sino a noi sfidando le intemperie il tempo le calamità e le bombe della guerra speriamo che con un po di educazione senso civico e cultura resistano anche a noi si legge nella scuola si legge nei libri a scuola leggiamo impariamo poi dobbiamo andare a vedere abbiamo la possibilità a fano di avere questo patrimonio direi insomma che è una cosa veramente da preservare